e voilà avete visto una cioppina lo sa le melanzane doppia panatura le tagliate più o meno così le emergete nella farina bianca poi nell'uovo poi nel pangrattato e le pressate per benino proprio per benino benino e perché queste bevono e le melanzane specie ciucatuni e e poi a friggere a farle dorare niente di più niente di meno nell'olio di semi che che vi piace di più e io ho preso più leggero non posso dire che fa la marca intanto qui vedete ecco volevo solo farvi approfittare un salutino sono giorni un po pegnativi c'è la comunione della piccola regia le gite di scuola le feste di fine anno insomma almeno però vi faccio vedere qualcosa di diverso poi ho fatto aspettate aspettate me aspettate me ho fatto questo sughetto con le polpettine di salsiccia ho preparato ah ma questo segreto che vi svelerò la prossima volta baciati in aria anna aspettate 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 e